buongiorno dal vittoria rivest siamo oggi qui questa festa del papà san giuseppe per assistere a un partitella in famiglia del 2002 si sfidano il 2002 dei giovanissimi secondo anno tra di loro partitella in famiglia siamo qua il 19 marzo 2017 siamo in via veronese stiamo riprendendo questa gara amichevole siamo nove contro otto potanti in campo così piccolo un po' bravo che è qui tira 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 vici bravo vicino al chelto bravo stiletti 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 metti stiletti tira stiletti stiletti mi sono pinzato il video fuori 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 perché? guarda è troppo vicino fuori tira 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 tranquillo solo solo sali guadagni sali guadagni yes 1-0 per il Senza Pettorino 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 3-1 3-0 3-0 3-2 3-0 3-2 3-0 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 4-4 3-0 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 4-4 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 4-4 3-0 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 5-5 3-0 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